Castellammare di Stabbia, via Schitto, da lontano si vedono delle nubi nere e si sente una puzza che sa di morte. I carabinieri effettuano un blitz in un'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti. Nel capannone di 200 metri quadrati soppalcato il proprietario dell'azienda e due operai. I tre stanno tagliando con un flex alcuni motori, degli alternatori e varie parti meccaniche. Con un cannello a gas gli operai stanno bruciando delle parti in plastica rendendo l'aria irrespirabile. Nessuno indossa mascherine o protezioni adeguate, l'obiettivo è recuperare il rame contenuto all'interno di quei pezzi. Nel frattempo dal cassone di un tir parcheggiato nel piazzale fumi nauseabondi con fiamme che vengono immediatamente spenti dai militari. Mentre i carabinieri attendono le previste autorizzazioni che mai arriveranno ci si guarda intorno e si parla con i due operai. Nel capannone ci sono banchi da lavoro con flex, bombole di gas con cannello, pneumatici fuori uso, rifiuti speciali pericolosi e non, plastiche, metalli, oli esausti, alternatori elettrici, parti di motori di frigoriferi e altri elettrodomestici. Ci sono anche rame e pezzi di auto per una quantità stimabile di rifiuti di circa 20 metri cubi. Nel piazzale esterno altri 80 metri cubi di rifiuti e 7 grossi sacchi di plastica neri con all'interno altri rifiuti pericolosi. Accertato l'inquinamento ambientale è alla volta degli operai. I due uomini, un quarantenne e un 54enne con famiglia, sono in nero, senza alcun dispositivo di protezione, senza corsi di formazione e visita medica periodica. Sono esposti a rischio elettrico con luoghi di lavoro non conformi e attrezzature prive di conformità d'uso. Lavorano da lunedì a sabato e ricevono un compenso che oscilla tra i 150 e i 200 euro a settimana. Probabilmente possono immaginare rischi che corrono per la loro salute ma non ci sono alternative, bisogna lavorare per portare il piatto a casa. L'azienda, il 32enne titolare, gestisce un'attività di recupero rifiuti con smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non in assenza di qualsiasi autorizzazione amministrativa ed ambientale. L'attività è svolta in assenza di un idoneo sistema di scarico, dell'immissione in fogna, del filtraggio per le emissioni in atmosfera e dei sistemi di protezione dei rifiuti degli agenti atmosferici. Inoltre il datore di lavoro non ha effettuato alcuna valutazione circa il rischio della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'imprenditore viene arrestato, dovrà rispondere ad impiego di manodopera in nero in condizioni di bisogno e realizzazione di discarica abusiva. Per il 32enne anche sanzioni che arrivano a quasi 75 mila euro. L'intero immobile è stato sequestrato. L'imprenditore